C'è abbastanza posto per tutti, sia per bambini che vogliono giocare, sia per le persone che vogliono venire qui a studiare, a leggere, a prendere il sole. Con il fiume vicino è sempre bello, piacevole. Dopo Vaia che lo aveva devastato facendo esondare il piave, dopo il covid che lo ha svuotato, è tornato a rivivere il parco fluviale di Lambioi, da sempre è luogo di pace e relax per tanti belunesi. Rimessa in piedi dal comune anche grazie alle donazioni dei privati, l'area oggi può contare su un chiosco, dei punti barbecue, un parco giochi e un campo da beach volley, quanto basta per favorire il tanto decantato turismo di prossimità. Abbiamo riaperto quest'estate, sono tante le iniziative che troveranno spazio qui, in particolare ci sarà il cinema all'aperto tutta l'estate, tutti i mercoledì e i sabato di luglio e agosto ci saranno delle proiezioni in collaborazione con il Cinema Italia in questo spettacolo a cielo aperto. Luogo ideale anche per i centri estivi realizzati da Sportivamente Belluno. Per noi questo è un luogo spettacolare perché comunque gli spazi sono ampi, c'è anche un parco giochi adatto a tutte le età. So di per certo che è ripartito anche dando la possibilità ai bellunesi di venire qua, rilassarsi, fare una passeggiata lungo il Piave. So anche che ci sono dei sabati dove c'è il cinema all'aperto, quindi penso che questo sia comunque una buona occasione di ritrovo sia per i giovani sia anche per le persone di tutte le età. Certo, Belluno resta città d'arte all'ombra delle Dolomiti, uno scrigno da visitare, il messaggio del comune in tutta sicurezza. La copertura vaccinale sia nel comune di Belluno che in tutto il territorio provinciale è comunque buona e ci aspettiamo che questo possa essere anche un elemento in più di sicurezza anche per tutti i visitatori che vengono a trovarci.